C'è un ragazzo che ha già le idee chiare e pensa che ci siano dei corsi che diano subito lavoro, per carità, gli do una spinta verso questa scelta. Io in aula, ho già parlato stamattina a diversi migliaia di loro, farò così anche oggi pomeriggio e domani, ho detto guardate, adottate un sano strabismo. Da una parte l'occhio importantissimo, fondamentale e prioritario alla professione, cercare laddove i vostri genitori investono per un lavoro, ma visto che non è scontato ed è difficile, non sacrificate l'altra dimensione, quella della passione, quella della curiosità e quella del vostro interesse. Oggi in questa congiuntura credo che bisogna tenere presente tutti e due, perché se uno punta solo a quello che ritiene utilitaristico, poi a metà percorso vede che non è adatto, è un piccolo fallimento, si risorge da quelle cadute lì. Però ecco, c'è tutto il tempo per scegliere, io dico non affannatevi a decidere oggi oppure il prossimo mese, si decide anche la sera prima, c'è un'incertezza fisiologica, rassegnatevi all'incertezza. Ci sono 209 corsi da scegliere, avete gli amici con cui parlare, colloquio individuale, ritornare, prendete appuntamento. Io però dico una cosa, qui oggi io non dovrei dire niente, c'è da andare e vedere questi 20.000 giovani che vengono da ogni dove, questo è uno spettacolo unico per l'università, per la città, anzi le città, perché ci sono cinque comuni dell'Alma Mater e per il paese. Questi ragazzi potrebbero stare a casa loro, fanno un click nel monitor, hanno un video, un sito non male, andatelo a vedere, e hanno tutte le informazioni. E allora perché quest'anno ce ne sono ancora più di anno scorso? Siamo bravi a fare pubblicità? Anche. Abbiamo un'offerta didattica? Anche. Ci trattano bene i ranking internazionali? Anche. Ma soprattutto qual è il motivo? Uno può stare a casa, non perde la scuola, non mette preoccupazioni nei cinturi, viene qua. Viene qua perché di questa realtà virtuale non ne possono più. Qui ci sono degli incontri reali, vengono con i loro amici, incontrano gli altri, incontrano i professori. Questo è un luogo dove c'è l'offerta di incontri reali. Tutti mi chiedete, mi hanno chiesto, ma com'è mai questo successo? Io credo che questa sia la ragione fondamentale. A me piace credere così, ma non sono lontano dal vero.